Che dire alle ragazze di oggi in una società che guarda al futuro? Che devono essere loro le prime a guardare il futuro e avere grande fiducia sulle loro possibilità, sulle loro capacità e sulla capacità della società di includere, di investire e di innovare. E una società che vuole includere ha bisogno dello sguardo delle donne, una società che vuole investire ha bisogno di investire su di loro perché loro sapranno portare gli investimenti migliori e una società che vuole innovare ha bisogno della creatività femminile. E questo è il grande messaggio che Armida Barelli ci consegna e sul cui esempio noi dobbiamo andare avanti.